Sono Truccio Baldazzi, malato mentale, voglio dire a tutte le persone, i miei fans, comunque per un docente, per un insegnante, per un educatore che fa proprio loro volontariato, capisco fa male a loro, ma cosa significa per loro insegnare, educare? Per loro non significa niente, perché questo fatto qua, voglio dire un fatto logico, per loro non significa niente, il loro significato è punire, minacciare, obbligare ai bambini imperativi, oppositivi e vivaci, dando delle maniere forti. Io quello che ho subito è stato così. Comunque il fatto di questa condizione qua, i professori severi non sono veri professori, ma sono persone che non sanno insegnare ai propri allievi l'educazione, di insegnare, imparare le cose. Quindi tutto questo, voglio dire, loro non sanno fare queste cose, loro provano a insegnare, ma fanno dei danni ai bambini, come esempio io. Io perché io non sono riuscito ad apprendere un lavoro, avere un lavoro? Non è perché io sono ignorante, o perché questo è quest'altro? Io non sono riuscito ad apprendere neanche una materia, perché io sono stato minacciato, punito, rimproverato, usato con maniere forti. Io ho perso fiducia ai professori, insegnanti e gli educatori. E ancora faccio molta fatica ad apprendere loro, perché io ho avuto insegnanti, voglio dire la verità, insegnanti incompetenti, che non hanno riuscito a farmi stare bene, insegnarmi qualcosa di bello, avere fiducia in loro, perché io non ho imparato niente. Come ovviamente, io ho scelto cucina all'alberghiero, ovviamente che io mi sono trovato bene, ma ci sono stati alcuni problemi, ovviamente sul fatto del mangiare, vabbè, lasciamo perdere. Io in questa condizione qua, io volevo fare il cuoco, ma dentro di me c'era un fatto che io non ho imparato nulla, perché ho perso fiducia, stima, sicurezza e credibilità. Su questi quattro fatti, diciamo, io ho perso fiducia in loro, perché io ho subito dei traumi alla scuola media e io con questo voglio farglielo capire a tutti gli insegnanti, educatori che vogliono provare a fare volontariato, che è meglio che non lo fanno, perché rovinano la vita dei propri bambini, imperativi, vivaci, oppositivi, provocatori, che loro non possono capire con maniere forti, con maniere brutte maniere, minacce, improveri, eccetera, eccetera, ma voglio farvelo capire questo messaggio, non riescono a capire queste cose, non lo possono concepire, perché i bambini sono bambini. Questo è un messaggio importante per voi, spero che lo apprendete presto. Io sono Trucce Baldazzi malato mentale e io presto sto realizzando un disco che è simile a Odia la Scuola, ma in modo più concreto. Quello che ho vissuto io alla scuola, perché io non ho imparato quasi niente, e io ho bisogno di, anch'io, dare una risposta, un messaggio chiaro e forte. Per questi bambini imperativi, vivaci o positivi, che possono creare dei danni, come è successo a me, che io non ho imparato niente, ho perso fiducia in me stesso e avendo anche scarsa autostima e sicurezza in me stesso. Ciao, a presto.